Presidente, oggi si ricomincia e incontra tutti i Dipartimenti Generali per stilare un cronoprogramma e le prime attività. La premessa per un manifesto di programmazione, che stia dentro sostanzialmente una visione più complessiva che noi abbiamo. Qual è? Quello di far diventare questa nostra regione veloce, intelligente, efficiente sul piano energetico, civile sul piano della raccolta differenziata, infrastrutturata, digitalizzata, capace dunque a partire dalle scuole di competere con il mondo. E in che modo già in mente le misure? Assolutamente sì, perché abbiamo l'approvazione da parte della Comunità Europea dei fondi strutturali, attendiamo soltanto il FEAS per l'agricoltura e sul resto delle risorse potremmo indirizzare su precisi obiettivi tematici proprio questo sforzo. E questi obiettivi tematici condivisi dall'Europa vanno in questa direzione. Allora noi dobbiamo accelerare la spesa, renderla virtuosa e fare del 2016, con questa ultima coda del 2015, un anno ulteriormente virtuoso dopo i risultati positivi raggiunti in questo periodo. Quindi si rimette in moto la macchia amministrativa, ha già una deadline di primi risultati da portare a casa e se c'è qual è? Beh, a me farebbe piacere che a fine 2016 la raccolta differenziata in questa nostra regione arrivasse e superasse il 60%, non arriviamo al 30%. Mi farebbe piacere che potessimo con il Governo nazionale mettere in campo la progettazione definitiva entro il 2016 delle grosse arterie di comunicazione, da Matera Potenza, da Potenza Melfi e via dicendo, la Basentana. Mi farebbe piacere se nel 2016 potessimo dotare le scuole dei presidi telematici avendo steso per le nostre strade la banda ultralarga. Ma avrei piacere se chiudessimo l'accordo con l'Abbè per 200 milioni di euro sul discesso idrogeologico, potrei andare oltre. Quindi almeno un obiettivo per ogni dipartimento? Assolutamente sì, abbiamo da lavorare poi sul piano del sud, sul decreto interministeriale, sulla carta benzina, ci sono tanti temi sul tavolo, però ci sono degli obiettivi precisi che io voglio condividere con la maggioranza che mi sostiene ovviamente, voglio con la maggioranza condividere con i corpi intermedi di questa nostra società e poi farne diventare manifeste e misurarci su quello.